Ehi ehi ehi, ben ritrovati ragazzi sul tubo del Gekori, eccoci con la seconda parte del secondo episodio di Life is Strange. Nella scorsa puntata erano ovviamente come al solito successe un sacco di cose, tra cui avevamo scoperto appunto il motivo per cui Kate è così depressa, perché l'hanno drogata, le hanno fatto fare un video porno, l'hanno messo in rete, quindi lei è completamente distrutta. Poi abbiamo incontrato Chloe al bar dove lavora sua madre e lei ha voluto, visto che le avevamo detto appunto che abbiamo questo potere che possiamo mandare indietro del tempo, e poi lei ha voluto tessare, avere la prova effettiva che questa cosa fosse vera. Siamo andati nel suo rifugio segreto, che poi tanto segreto non è, e abbiamo incontrato un tizio abbastanza losco che si chiama Frank, che ci ha minacciato con un coltello sostanzialmente perché è l'ennesima persona a cui Chloe deve dei soldi, e appunto ci ha minacciato con un coltello e poi ci ha fregato la pistola, la pistola che Chloe aveva a sua volta fregato a suo padre, a suo padrino David, che vi ricordo è il poliziotto della scuola. Come al solito ho parlato troppo, vediamo subito la seconda parte del secondo episodio di Life is Strange. Eh, cosa devo fare? Gli dovevo sparare? Cioè... Eh, esagerato. Sì, dovevamo sparargli, cioè... Max non è un assassino, quindi no. Esatto, questo è il problema. Perché vai in giro con questa gente? Non che ci ha fregato la pistola. Eh... Ma io penso che... sdraiarsi sui binari non sia una grandissima idea. Cioè, spero che non ci passino treni su quei binari, no? Stai bene... Un po' spaventato, dai, cioè... Eh, già. Sdrai. Sdrai. Ma è una piazza. Ma è un po' spaventato, ma è un po' spaventato. All'i fa ne fa è un po' spaventato, è un po' spaventato e un po' mangi da. Chloé, sei tu davvero? Frank ha fatto proprio il tuo pezzo e ci spaventato. È ero armato e chiaramente dangerous. Max, so, sai. Cosa stagione è il nostro normale per me. È quello che ho spaventato a lasciare Arcadia Bay, senza pagare Frank off. Sì, d'asci... Ah addirittura è un cattivo ragazzo soldi facili non sono mai soldi puliti fai attenzione è armato aveva un coltello una pistola e tu gli devi anche dei soldi quindi tre migliori amiche ci passa in treni sui binari non possono far sentire bene no ok spero che sia un binario abbandonato dai non sono così stupida tu sei tu devi solo stop essere freddo perfetto la mega tempesta continuiamo ad avere queste visioni cos'è? dimmi che sei impigliata e dimmi che in quei binari ci passa veramente il treno ma perché? perché è lì? ma che cosa c'è di bello nel mettersi dove passa il treno? ma come ti salva adesso? guarda parla una soluzione al volo qua si possono cambiare la direzione dei binari? no eh forse qua leva di scambio tira sarà arrugginita a palla ovviamente te sei stupida Clossi sei proprio stupida un attrezzo per tagliare i fili dove cazzo lo trovo? ma un attrezzo per tagliare i fili è inutile che urli qua ci sarà sicuramente un attrezzo apri non si muove tutto arrugginito qua eh lo so che stai arrivando stai buona piedi di porco prendi ok non c'è bisogno di parlare ogni volta che prendi qualcosa devi solo agire buttati giù ma dai non si non si no 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 aspetta ffffffff tanto mando indietro il tempo effettivamente eh niente da dire ok meglio mandare un po' indietro ok il piede di porco ce l'ho usa il piede di porco mi agitavo così tanto ma effettivamente for real? Max please! neanche col piede di porco ah il piede di porco apre la porta ok perfetto Un attrezzo per tagliare i fili Cassetto, apri il cassetto Eccolo lì Prendi Pinza Giallo, verde, rosso E' sempre rosso Sempre rosso Tic Tira Ci è andata decisamente molto vicino E te sei totalmente stupida per tutta la vita Facciamo che la prossima volta il posto lo scelgo io, Chloe Cioè Si è sparata Si stava per far investire da un treno E' arrivato uno spacciatore Che ci ha minacciato con un coltello Direi che Chloe I nostri pomeriggi assieme non sono Non sono molto sicuri, no? Prossima volta si va in biblioteca Potrebbe essere Eh si, sta anche piovendo La teoria del caos Che c'è la teoria del caos? Eh già Si vede che si è tornato in azione Si vede proprio Sembra un mignolo col prof Un tornado si abbatterà su Arcadia Bay Ragazzi E noi dobbiamo trovare il modo di avvertire la gente O risolvere la situazione Il Vortex Lab C'è un'altra festa C'è un'altra festa Su giro chi stuprano C'è Se l'è anche meritata un po' eh C'è un'altra festa C'è un'altra festa E la mia chiamata E la mia chiamata E la mia chiamata E la mia chiamata Per trovare studenti Non è la tua responsabilità Come head of security? Esatto Lui sicuramente sa qualcosa su Rachel Amber Ma io come vi dicevo Nella scorsa puntata Non penso che sia Una persona cattiva in questo gioco Il suo padrigno sinceramente Vediamo che ci scrive Warren Warren è nel laboratorio di scienze Nel laboratorio di scienze Kate sei più allegra del solito oggi Ok prof T'apposto Che è successo con Kate? Ancora non abbiamo consegnato il compito Uno scontro Mi sono semplicemente intromessa Eh addirittura Ecco voleva la prova E noi non abbiamo fatto la foto Già Tutti lo sa E' per questo che volevo Vincerevi Kate è being humiliated daily Ehm Le ho parlato Si che le ho parlato La chiamata persa Cioè vabbè Ma ha fatto una chiamata Non le ho risposto Eh esatto Non lo so Non lo so Non lo so se fidarmi di lui Non lo so Non lo so Ehm Che faccio Glielo dico Non glielo dico No Forse è meglio È meglio evitare Boh Non lo conosco ancora bene Questo professore Per potermi fidare così di lui Esatto Anche perché Come al solito Non abbiamo prove Quindi Non avendo prove Ci direbbe Ok ma è le prove E non le abbiamo Devo andare in classe Ma c'era Warren Che ci aspettava Nel laboratorio di scienza E' questo il laboratorio di scienza Ah si Are you okay? You look thoughtful Yet confused Maxwell Silverhammer Perfect timing I need help with this chemical experiment Asking me for help Means you're screwed Have to add either a bit of potassium Or sodium It's up to you to decide Doctor Max Sodio e potassio Sodio va Un po' di sale Godium Godium? That's the worst pun I've ever heard Yet Max has spoken Sodium E quindi? Sei riuscito? Damn Zip Nothing Nada Niente sodio Allora ci mettiamo Il potassio Non dovrei abusare Del mio potere Per fare Sia volata Vediamo come va Col potassio Perfetto No Neanche col potassio E quindi? Yes I'm a scientist Fuck Vabbè lasciamolo perdere Nei suoi esperimenti Ehi Beruk Ma è La lezione di fotografia O è la lezione di Fare le modelle Con i pantaloni strappati? Vabbè Quindi Inizia la lezione Oh Guarda chi c'è qua La copia bella del mondo E quello è anche il mio banco Scusate Divento cattivo Che bella coppia Che strano Veramente Chissà per quale motivo David la insegue Facendo le foto Ah lì c'è la tipa Che prende sempre le cose addosso Non ha ancora preso niente What up Max? Hey Warren I saw Kate earlier And her eyes were puffy from crying Kate has A lot on her plate I didn't know what to say And she She didn't tell me anything Okay I know you love me But if you're not in this class Beat it Everybody else Please sit down I feel like the cover today And so little time As usual I see all the usual suspects here Me così distos bet Chiunque ha visto Kate Marsh? Penso che tutti ha visto Kate Marsh per ora. Non si senti bene. Si sembra che sei stai giggling su un video che è stato virale. Può che è involverso un student o un amico. Mi ricordo come si senti a avere falsi immagini di te stesso shotati all over the world per le persone di giudere. Di solito, le persone bisogna qualcosa di giudere quindi non si prendono una buona guarda di loro. Possiamo ringraziare la TV di realtà per questo. Cosa ho disegnato? Qual è il tuo problema? Cosa è successo? Cosa è successo? Sono curiosissimo. C'è gente che si picchia in corridoio. È il tornado? Ah, è il tornado. Ah no, cazzo. Kate si vuole buttare. No. Kate. No, 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 no. Tornassù. Fermali. L'ultima volta. Volare. Oh. Oh. Bisogna... Non ora. Ho bisogno di provare qualcosa. Non potrei rilassare ancora e ancora. E come faccio a tentare qualcosa? Si è bloccato il tempo? Forse non dovevo giocare con il potere. Eh, è solo che è dura salire fino là. Oh, uccellino. Dopo sta roba qua ci viene un infarto. Sicuro. Eh, eh, sei un po' a ritardo, David, eh. Possiamo anche bloccare il tempo? Beh, ma è una figata. Questo vuol dire teletrasporto puro. Ma la gente non si chiederà come abbiamo fatto a salire fino sul tetto in così poco tempo, visto che eravamo in classe e siamo anche usciti di più per ultimi. Però magari essendo uscita per ultima, non mi hanno visto. Eh, digli Kate. Non penso che ti abbia vista. Ok, non ti buttare. Abbiamo perso il potere. Ottimo. Ah, perfetto. Se sbaglio adesso è morta. Ok. Non ho più poteri. Esatto. Allora, le cose miglioreranno. Sei importante o non solo per me. Sei importante. Sei importante. E non solo per me. Io voglio credere. Kate, la tua vita è ancora tua. E possiamo passare questo insieme. Oh, madonna. Cioè, te ti stai buttando da un palazzo perché io non ti ho risposto al telefono. Era silenzioso. Mi è morto il telefono. Ero con Chloe. Pensavo fosse Warren. Eh, no. Pensavo fosse Warren, no. Perché mi ha mandato anche un messaggio. Ero con Chloe. No, perché dice, eccovi lì. Sei l'amica di Chloe, non sei l'amica. Era in silenzioso. Mi è morto il telefono, dai. Una buona scusa. Una onestissima scusa. Eh, giù, è vero. Ok, forse non dovevamo usare una scusa. Si è anche indietreggiato. I can help you now. I know I can. This morning I erased the web link to the video. It was written on the shower room mirror. That's your story now. How can I trust you? What about this morning when I needed help? You told me to do nothing. Eh, mi ha detto che io ne sto attenendo delle prove. Non ne ero sicura. Mi serviva più tempo. È troppo pericoloso per noi. Prove. Kate, I'm gathering proof that Nathan Prescott Esatto. Esatto. Nathan Prescott? That makes sense. He's a scumbag. You have proof now? Soon. Then straight to the police. Think of it like we're cleansing Blackwell. Esatto. You have my back, Max. Ce l'ho fatta. It's the first time I felt hopeful in a week. Ce l'ho fatta. Good. L'ho convinta. Adesso scivole cade, vuoi vedere. So, come se vuoi essere con me now? Please. You don't have to do this. Max, I'm in a nightmare and I can't wake up. Unless I put myself to sleep. Then everybody a Blackwell can post pics of my body. morning on the internet forever. No wonder they call it a web. Nothing can ever get out. Abbastanza vero. I wish I could go back in time and erase everything. dimenticheranno. O ci sono miliardi di video? Ci sono miliardi di video. Esatto. This is a blip. Yep. My life is a blip. Blackwell taught me I'm worthless. I'll prove it right now. No. Dai, ce l'avevo quasi fatta. No, no, no. Cazzo. No. Ce l'avevo quasi fatta. No. Ma c'era modo di salvarla veramente? Niente o sarebbe sempre finita così? Qualsiasi cosa dicesse? I know this isn't pleasant for any of us. But we have to go over what happened before Miss Marsh. Before she did what she did. Officer Barry will be taking notes for the official police. Sim, yeah. I'm sure you'll give him your full cooperation. Such a tragedy. But there must be a reason for everything. We need to find out why Kate Marsh would be driven to such desperate action. Beh, cosa? Non lo sai che c'è un video su internet? I take my duty seriously. I take the well-being of every student more seriously. What happened today should never happen in a hall of wisdom and knowledge. Mr. Madsen. As our head of security lawyer, those roof doors should always be locked. That's just standard operating procedure. They were not. And that is indeed your responsibility. Mr. Jefferson. I know you can't be expected to know what your students are going through. But Kate has assisted you in class. So you should have known something was miss. Mr. Prescott. Since you are responsible for the Vortex Club parties. And since Miss Marsh did attend your last party. Oh. You'll have to answer some more questions. Esatto. E io che cazzo c'entro? Miss Caulfield. Ecco. Why exactly were you on the route with Kate Marsh? Did she tell you her plan? Or anything at all? Please. Eh, stavamo cercando di convincerla a non buttarsi. Wow. Qua c'è... Da dare la colpa a qualcuno. Nata la drogata. David l'aggredita. Ah, Jefferson l'ha fatta piangere. Beh, ovviamente. Tutta la vita nata la drogata. Tutta la vita. All I know is that Kate was at a party and Nathan dosed her. She got wasted and kissed some boys on a viral video without a clue. I dosed her? Without a clue. Have you seen the video? Io no. Whatever. Kate was loaded and played in the field. You told Kate you took her to the emergency room. I said I was going to take her to the ER. She's sobered up eventually. Bullshit. Something happened to her and you know it. How do we talk about you waving a gun and the girls... Ooh. That's total slander. I could sue you and this school so fast. I already have a personal lawyer. Wait, Max. Ragazzino montato di merda. You told me that nothing happened yesterday. Are you just making things up? How can I trust you? Che non abbiamo prove. But I have to tell the truth. I do understand that. And since Mr. Prescott does appear prominently in the video and was responsible for the party. I have no choice but to suspend him until... Justo. Whatever. See you in court. Excuse me. I think Max and Nathan need a break before we grill them further. A friend and fellow student is dead. And they don't need this forum right now. Yes. I'm kind of devastated right now. I'd like to be with my family. All right, Miss Caulfield. Please sign here to confirm what you've told us. I'll continue this investigation from there. My head is killing me, but I think I can use my power again. Ho mal di testa, ma credo di... No, no, penso di aver fatto le scelte... Le scelte giuste. Ho detto che possiamo mandare indietro il tempo perché gli è tornato il potere, ma... Penso che sia stata la cosa migliore da fare questa, quindi... Vaffanculo. Firmiamo la dichiarazione ufficiale. E poi saranno... Ovviamente da adesso in poi... Saranno un mega problemi con Nathan. I know this has been a stressful day. I wish I had the power to change it all for the better. So thank you for coming in. Non mi sentivo di incolpare David perché David non... Non penso che... Che c'entri effettivamente qualcosa con il fatto che Kate si sia suicidata. Kate si è suicidata perché c'era un video che l'ha fatta andare fuori di testa, appunto. Perché tutti a scuola la prendevano in giro. E... E il bullismo è una brutta cosa, quindi... E quindi si è suicidata per questo, appunto. Penso che comunque non si... Boh, magari sì. Magari si poteva salvare Kate, non lo so. Chi lo sa, boh. Non lo sapremo mai. Almeno, io non lo saprò mai. Non lo saprò mai. Non lo saprò mai. Tu eri l'unica con balli enough che riusci a la piazza. Tu eri l'unica che l'ai importato. Sì, sicuramente mi ha fatto una grande differenza. Magari se più persone l'ai importato. Più persone che io. You're the best person around. Warren, I screwed up today. That makes no logical sense. Warren, I don't mean to sound weird, but there's something ominous going on at Blackwell. Today proves that. And I'm working on proof that Kate Marsh is connected to Rachel Amber. Somehow. Along with Nathan and Mr. Madsen. I'm not a big conspiracy guy, but I wouldn't doubt it. Nathan did scare me yesterday and Madsen is a straight up dickhead. So, what do you think is really happening? What the hell is this? The weather can be... ...weird day. I feel that chill. Max, there was no eclipse scheduled today. I would know. I would. An eclipse. Fantastico. Come ne approfitta. Grandissimo, Warren. Warren, I believe anything this week. The storm of Christmas, we won't be a holiday in. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.